Si apre la stagione di due grandi cantieri che prenderanno avvio contemporaneamente ad Arezzo, si tratta di quello relativo al sottopasso Baldaccio e quella alla rotatoria di Via Fiorentina, entrambi finanziati in parte con il bando delle periferie. 3.350.000 euro è il costo del nuovo svincolo su Via Fiorentina. È uno degli interventi più qualificanti, sicuramente quello più visibile quando sarà cantierizzato perché va a intervenire in un'area molto trafficata, infatti il vero problema sarà quello, riuscire a gestire il traffico durante l'esecuzione dei lavori. I lavori inizieranno a dicembre o al massimo a gennaio 2019, dureranno circa 14 mesi nel primo straccio, ovvero nella realizzazione della rotatoria e successivamente, ma all'interno dello stesso appalto, interverremo per la realizzazione del sottopassaggio che appunto serve tutta la tangenziale urbana. Il risultato finale sarà che finalmente tutta la tangenziale sarà servita da rotatori, non ci saranno, non code, diciamo che code probabilmente ci saranno in corrispondenza di altri rotatori, qui sicuramente no perché non ci sarà neanche una rotatoria ma tutto il traffico sulla tangenziale sarà completamente indipendente, quindi il nodo di Via Fiorentina mi sentirei di dire che verrà definitivamente risolto. 3 milioni e mezzo invece quello relativo alla doppia canna del Baldaccio. Sì, lì verrà realizzata una nuova canna, un nuovo sottopassaggio parallelo a quello esistente in modo tale da consentire per chi proviene da Pescaiola di entrare in centro senza fare il quadrilatero via Cittadini, via Vittorio Veneto e via Le Michelangelo. Questo sicuramente alleggererà tutto questo quadrilatero e consentirà quindi di diminuire lo smog e il traffico in tutta quella zona. I tempi di esecuzione in questo caso saranno un po' più corti complessivamente perché nell'arco di un annetto dovremo vedere la fine dell'opera. Qui preoccupa meno la criticità traffico? Qui diciamo che sostanzialmente non preoccupa perché il cantiere verrà gestito all'interno dell'area dove oggi sono ricoverati una parte degli autobus, non quelli di linea ma quelli del trasporto di lunga percorrenza e quindi non interferirà con il traffico esistente. Prima verrà realizzato il nuovo sottopassaggio e sbancato tutta la terra e in un secondo momento quando sarà operativo il nuovo sottopassaggio verranno effettuate le lavorazioni sul vecchio.